amici telespettatori buongiorno e ben trovati con la nostra quotidiana d'assegna stampa oggi è sabato 30 di gennaio 2021 vediamo insieme i principali quotidiani crisi di governo andiamo al nazionale ieri sono finite le consultazioni primo giro alla presidenza della repubblica la crisi di governo ora mattarella alla fine ha incaricato il presidente della camera roberto pico di verificare se esiste o no la possibilità di ripartire con l'esecutivo con diciamo lo stesso esecutivo di prima allargato ai costruttori quindi c'è tempo fino a martedì anche per ricucire naturalmente con Renzi, Conte, Spera e ci sono comunque più brillazioni nel movimento 5 stelle ancora qui vediamo appunto gli articoli della di un'agenzia di stampa mattarella che affida mandato esplodativo a fico e dice mattarella necessario governo con sostegno parlamentare terminate le consultazioni quindi il capo dello stato ha detto da collochi prospettiva maggioranza uscente il presidente della camera riferirà a martedì verifiche a partire da questa maggioranza quindi sarà ora fico a così a cercare di rimettere in piedi il governo Conte Terra di questo si tratta quindi dare vita ha detto però il presidente della repubblica a un governo con adeguato sostegno parlamentare quindi il capo dello stato prima di convocare Roberto Fico al curinale ha rilasciato insomma queste dichiarazioni quindi Fico poi ha detto verifica prospettiva a partire da questa maggioranza intanto movimento 5 stelle chiede Ponte Premer ma toglie il veto a Italia Viva. Ieri le consultazioni come dicevamo ci sono stati per ultimo ci è andato il movimento 5 stelle prima sono andati la destra che hanno chiesto elezioni anticipate pur cambiando comunque eh la loro eh strategia politica e prima Salvini eh non ne voleva sapere di maggioranza eh così di un governo istituzionale ora invece lascia entra a vedere la possibilità anche se dice mai al governo con il PD e lo dice uno che c'è stato però al governo con il PD e poi c'è stato il eh movimento 5 stelle eh il partito insomma quello che ha preso più voti per capirci alle ultime elezioni e il quale momento 5 stelle come riportano molte testate giornalistiche pur di non perdere insomma eh pur di non andare al voto eh fino a ieri lo stesso Crimi nelle eh così nelle consultazioni eh diceva due cose l'unica persona era eh che poteva superare questa fase complessa eh era Premier Conte quindi ancora il Conte Ter e poi eh aveva detto mai con Italia Viva ora invece anche Crimi si è convertito assieme a parte del movimento e apre nuovamente toglie il vetro insomma su eh Italia eh viva bisogna vedere cosa dice Italia Viva anche se Cerenzi ha dichiarato che sarà disponibile che il suo non è un problema di nomi ma è un problema di eh programmi questo eh per quanto riportato dalla stampa nazionale andiamo ora alla casetta del sud che apre con Martarella si affida all'esploratore Frico, crisi di governo, il presidente della Camera entro martedì dovrà provare a rimuovere tutti gli ostacoli per dare vita al Conte Ter e il capo dello Stato verificare prima la maggioranza attuale il Movimento 5 Stelle si spacca all'apertura a punto a Matteo Renzi. Non riusciamo a comprendere eh questo verificare la maggioranza a attuale cosa vorrebbe eh dire se non quella appunto di fare eh un governo con Matteo Renzi che uscirebbe da questa crisi eh vincitore eh quindi il capo dello Stato che si affida a a Fico Fico che dovrà riferire entro martedì la strada di questo mandato esplorativo era richiesta da Renzi mentre Di Maio è certo che si tratti di una via capace di favorire il dialogo il PD ribadisce il sostegno al nuovo governo Conte ancora altro a una solita base politica e numerica fondata sulla consapevolezza delle forze europeiste in eh parlamento sanitaria sociale ed economica sono tre le emergenze che attanagliano l'Italia e per Mazzarella solo un governo nel pieno potere con un adeguato sostegno parlamentare può vincere una sfida così impegnativa occorrono quindi provvedimenti immediati e si impone la necessità di utilizzare gli osti 200 miliardi del recovery fund con rapidità e anche con efficacia dai collochi con i partiti emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostengono il governo precedente e questa possibilità va doverosamente ha detto il capo dello Stato verificata qui vediamo intanto il capo dello Stato Fico e poi Pemir Conte è eh 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 il il l'ex presidente del consiglio attuale eh capo d'Italia viva Matteo Renzi eh andiamo ora lasciamo questa notizia andiamo noi tre occhielli di apertura della Zetta del Sud a Catanzaro l'inchiesta basso profilo l'assessore Talarico resta in silenzio in tribunale mentre a Polistena l'inchiesta house il sindaco Policaro si è dimesso e a reggio relazione del ministero dell'interno l'ASP lavoraggine decontenziosa all'azienda costano centinaia di milioni e nel 95 per cento dei casi non si costituisce ancora avanti a reggio DDA FM gialle sequestrano bene all'imprenditore Domenico Musolino i militari della guardia di finanza e la procura antimafia hanno sequestrati bene per un valore di due milioni di euro all'imprenditore Reggino e poi Locri detrupparono l'Inps però ci sono visi di garanzia per tredici falsi eh braccianti le indagini della procura di Locri sono fondate su un materiale informatico finito sotto sequestro ancora eh covid da ieri eh sono cambiati i colori e la Calabria torna gialla a scuola la didattica integrata conferma dell'Istituto Superiore della Sanità con l'RTA zero ottantadue da lunedì il cambio di colore con riapertura quindi di bar e ristoranti fino alle diciotto Spirri prepara un' ordinanza i ragazzi potranno scegliere eh di studiare in classe oppure da eh casa ancora non ci sono più zone rosse sono cinque regioni restano arancioni e questo è già eh pure la Lombardia che diventa gialla mette sui vaccini AstraZeneca via libera anche per gli ovviare cinquantacinque moderna taglia il venti per cento in fondo alla pagina eh scovato il latitante Domenico Cracolici il boss Vibonese era tra cento ricercati più pericolosi l'uomo si nascondeva a Maida il suo nome nelle inchieste rinascita e imponimento lo vediamo catturato Domenico eh Cracolici trentocchi anni arrestato in una casa rurale a Maida poi vi porto con me a Torino uccide la moglie un figlio di cinque anni poi tenta il suicidio un uomo di trentanove anni che ha ucciso eh col pendoli la moglie figlio di cinque anni poi ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone ma eh purtroppo per lui è rimasto ferito ed è stato subito arrestato l'accaduto eh è venuto a Torino a Campa Carbagnola eh in certi sono i motivi forse la moglie voleva lasciarlo in un biglietto l'omicidio ha scritto vi porto via con me andiamo allo sport serie A oggi dalle 15 fino a sera incollati alla tv ci sono prove tecniche di scudetto con Milan Juventus e Inter eh mentre possiamo ancora vista la prima pagina della gazzetta andiamo alla riformista mandato esplorativo anche qui a Fico riferirà martedì 2 febbraio Martarella serve governo forte fronteggiare emergenza attraverso utilizzo rapido ed efficace come abbiamo già detto in altri giornali delle grandi risorse dell'Unione Europea in questa immagine vediamo il presidente della Repubblica eh Martarella con Fico col presidente della eh Camera dei deputati a quale è stato affidato il compito di verificare però c'è una spaccatura Movimento 5 Stelle è spaccato sulla riapertura a Matteo Renzi di Battista e Morra eh verso l'addio eh così arrivederci e grazie hanno scritto i due i totoministri governo Fico e possibili ministri e ci sono tutti i nomi quella resa consultazioni 5 Stelle che si piegano a Matteo Renzi ma Conte è l'unico premier possibile per i 5 stelle e poi l'opposizione Giorgia Meloni che smentisce le divisioni nel centro-destra unica voce è quella delle elezioni ancora l'editoriale vero e scena quali sono le vere mosse di Matteo Renzi editoriale sul eh riformista poi tentativo Conte Renzi e la telefonata dell'ultimo minuto così prima non c'è attentato di eh ricucire Movimento 5 Stelle spaccato sulla riapertura eh riapertura Renzi naturalmente di Battista e Morra verso l'addio così arrivederci e grazie insomma c'è chi dice ciao ciao come Renzi ha eh appunto Conte e chi invece nel Movimento 5 Stelle come in questo caso Morra e di Battista dicono addio al Movimento 5 Stelle la riapertura di Vito Crimi al del Movimento 5 Stelle a Italia Viva durante le consultazioni a Quirinale con il Presidente hanno messo in crisi il Movimento 5 Stelle eh vediamo quali sono i eh possibili eh ministri eh quindi il toto ministri e poi andiamo avanti con eh la la parte cartacea del appunto riformista e capo dello Stato Sergio Mattarella quindi dopo trenta due ore di consultazioni e una crisi inizia eh iniziata dieci giorni fa eh ad una risoluzione rapida affidando mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Pico il Presidente della Repubblica affettuato un colpo a sorpresa eh non indicando Giuseppe Conte come molti pensavano e sparigliando tutto puntando sul Presidente della Camera era nel suo breve discorso Mattarella ha detto eh che visco la crisi attuale e è doverosa dare vita a un governo con un adeguato sostegno parlamentare e tutto però nel più breve tempo eh possibile proprio per questo motivo quindi per evitare tatticismi e vetti incrociati il capo dello Stato ha pensato affido il napoletano classe 1974 può essere infatti un nome che può ricompattare il Movimento 5 Stelle che dopo le parole del pomeriggio di Vito Crimi i segnali di apertura quindi di Italia Viva era sull'orlo della scissione con il post al vetriolo di Di Battista contro Renzi con Fico Plemmer per Di Battista sarebbe veramente complicato eh uscire dal movimento di cui Fico è uno dei fondatori sostenuto in prima persona da Beppe Grillo stesso inoltre il Presidente della Camera potrebbe senz'altro contare sul sostegno del Partito Democratico e di Libero Uguali ma in particolare di Italia Viva che avrebbe vinto la sua battaglia contro Conte ricordiamo anche che Fico è stato eletto Presidente della Camera anche con i voti di Forza Italia quindi potrebbe essere un nome eh non proprio sgradito a Berlusconi raccoglie un appoggio al Senato. Vediamo il toto ministri quali potrebbero essere i ministri del governo Fico potrebbero entrare tutti i leader Renzi potrebbe avere gli esteri eh mentre Di Maio potrebbe scegliere gli interni un vecchio pallino oppure la difesa lasciando quello non scelto a Guerini Zingaretti dovrebbe andare al lavoro oppure al eh ministero dello sviluppo economico a Orlando potrebbe tornare alla giustizia mentre Bonafede essere esposto ai rapporti con il Parlamento a Zolina e Manfredi dovrebbero entrambi essere scaricati il miur riunito andare a Morra speranza i quartieri potrebbero perdere i loro eh ministeri insomma speranza che è il ministro della salute eh che è il ministro Gualtieri eh ad essere sposati i primi alla scuola e i secondi degli affari europei potrebbero essere questi spostati alla salute eh potrebbe essere invece promosso Sileri eh l'attuale vice ministro mette l'economia se Draghi non dovesse accettare che l'Europa non chiedere conferma del ministro eh uscente e beh insomma allora eh allora qui eh Patronelli Provenziano Costa e Franceschini hanno messo la conferma del Rio dovrebbe tornare alle infrastrutture e trasporti bene andiamo anche al riformista Cartaceo ha aperto ieri nel trionfo dell'ipocrisia il riformista ma voi osate ancora chiamarlo anno giudiziario? Naturalmente eh si apre Piero Sanzonetti eh apre con l'anno giudiziario dicendo hanno aperto l'anno giudiziario in un clima surreale quasi non fosse successo completamente niente nella magistratura in questi mesi una cerimonia davanti a presidente della Repubblica piena di toghe ermellini velluti ori principe principe vincisvecchi e poi eh monta montagne montagne infinite di ipocrisia insomma quella ipocrisia che ormai accompagna appunto eh purtroppo la eh magistratura eh italiana è un articolo tutto da eh leggere e poi l'incarico e grillini Rensi sempre piaciuto riba è infuriato la sindrome se la sinistra voleva diventare populista vinto se volete addomesticare i grillini ha perso eh se voleva addomesticarli ma è lo stesso eh felice insomma la sinistra si chiama sindrome di Stoccolma e si chiama eh si ama il proprio eh carnefice poi eh la scena di sigarette imbabolato al pirinale come sempre mentre c'è la proposta sempre un governo di unità nazionale come nel millenovecento quarantasei lo chiede Giovanni e poi ancora qui vediamo eh l'Unione Europea che considera eh ponte intoccabile ma c'è un punto di domanda una bardelletta che non fa ridere più nessuno quando il premier faceva il sovranista con Di Maio disse a Merkel che avrebbe fatto da solo non ha meriti per il recovery fund e non credo Bruxelles apprezzi questa pioggia di eh mancette la giravolta la mirocolosa svolta europeista dei grillini e del loro presidente e leader dei cinque stelle risale al voto per la von der Leyen a Bruxelles eh da lì parte la narrazione farlocca della gratitudine di Merkel ma quei soldi sono frutto di una decisione collettiva dell'Europa sulla eh sulla quale Europa molto lavoro e molti io lo riconosco anche a sinistra l'ha fatto Silvio Berlusconi. La crisi di governo è PD, la sindrome di Stockholm, la sinistra eh ama chi la sta uccidendo, poi Casalino propaganda e trombe a Palazzo Chigi mentre eh i Cinque Stelle spiegano eh si piegano scusate Renzi, Fico deve domare i suoi, il capo dello Stato eh che non esclude il governo Ter da un mandato esplorativo a presidente della Camera che a tempo fino a marzo di lì di tale viva ringrazia il eh eh Quirinale. Poi per errori di Zingare, il PD succube del Movimento Cinque Stelle all'inizio del governo è stato destabilizzato proprio dalla conquista dei pieni poteri da parte di Conte e dalla mancata risposta politica dei democratici. La prima versione del recovery plan eh era semplicemente ridicola ma ha parlato solo Italia viva. Questa è la eh verità. poi un governo di tutti per uscire dalla crisi serve lo spirito del millenovecento quaranta sei ehm l'articolo di Giovanni Guzzetta lo stallo attuale figlio di due dogmi un proporzionale che impone accordi avversari e terrore delle urbe due anomalie solo italiane. Ma non è più l'ora di logiche di parte eh ancora andiamo all'anno giudiziale cioè la fiera dell'ipocrisia eh per riscattare la magistratura. Il primo presidente Curcio Acquisì eh salvi invocano credibilità. Ermini chiede una rifondazione morale poi finalmente apre sulla responsabilità professionale dei magistrati. Qui vediamo il capo dello Stato e il eh anche ministro della giustizia ieri all'anno giudiziario e gruppo tifa per il ponte terra. Care toghe stato eh state affondando il dottore Nunzio San Pietro che nella sua veste di giudice per l'udienza preliminare del caso diciotto è andato a palazzo Chigi e invece di scappare via subito ha espresso posizioni politiche. Lui dovrebbe essere eh oggettivo. Ancora overdose di reati inchiesta sciò la giurisdizione sull'orlo del crack stressata da aspettative politiche mediate che da una da un legislatore che ha reso le le penalizzazioni un tabù sta perdendo autonomia e indipendenza l'ipotesi accusatoria diventa così eh la più eh rassicurante. Bene lasciamo anche il eh riformista torniamo alla gazzetta eh del sud. Andiamo agli approfondimenti poi faremo gli altri giornali nazionali eh foral sulla gazzetta il primo piano Mattarella che conferisce l'incarica a Fico Fico esploratore per il perimetro della maggioranza giallo rossa riferirà a Colle entro martedì riferirà sui numeri eh crimini crimi intanto apre Italia vive cinque stelle si spacca mentre il centro-destra tiene la linea delle elezioni la fondazione Berlizzario sia qui di paese eh dice ad una eh donna poi Scapparenzi stop all'export di bombe verso Emirati e a Arabia il viaggio a Riyadh del senatore e l'attività di lobbying una fornitura di dodici mila e settecento ordini e gli effetti sul eh movimento eh politico ancora cartelle esattoriali invece quello che più gli italiani temono si tratta di cinquanta milioni di notifiche da parte del Fisco tra debiti avvisi bonari ferme eh un altro mese di congelamento decisione attesa ma serviva di più ci sono scintille tra quartieri e movimento cinque stelle intanto c'è il piano di rilancio e resilienza da duecentodieci milioni le regioni che invocano un confronto eh serio serve un percorso condiviso dicono per evitare effetti spiazzamento con le politiche di coesione duemila e diciassette eh duemila e ventuno scusate duemila e ventisette ancora inaugurato anche qui la cadetta riporta l'anno giudiziario drammatici numeri dei progetti pendenti e afflizioni della giustizia e la macchia eh pala amara ancora l'allarme resta alto vediamo quest'altro articolo sul eh ministro speranza naturalmente stiamo parlando del coronavirus eh da lunedì si allentano le restrizioni quattro regioni Bolzano e l'arancione il resto dell'Italia è tutto giallo l'allarme resta alto dicevamo ma non è più un allarme rosso il ministro speranza ai cittadini fondamentale mantenere la massima attenzione ieri altri tredici mila cinquecentro settantaquattro positivi e quattrocentro settanta sette vittime l'indice rettica la zero ottanta quattro preoccupa la mortalità la fase rimane comunque delicata con il virus che circola anche eh con numerose eh varianti piccoli passi insomma avanti poi eh non c'è due senza tre ma anche moderna taglia le dosi all'Italia sarà consegnato il venti per cento in meno del quantitativo concordato eh a febbraio l'immunizzazione di circa quattro virgola cinque milioni di ultra ottantenni e poi il vaccino potrà essere iniettato pure agli over cinquantacinque ma l'AIFA si è riservata per ventiquattro ore non solo quindi per i giovani AstraZeneca supera l'esame EMA resta lo scontro con Bruxelles che pubblica il eh contratto poi la Francia non cede al terzo lockdown evitate l'estrema essere la misura più estrema coprifuoco dalle diciotto scuola aperte e chiusura delle frontiere extra Unione europea andiamo con la Calabria la Calabria che festeggia a il giallo eh con l'ode e il monitoraggio della Calabria eh insomma la cabina di regia ehm del ministero premio alla regione con l'attenuazione a partire da lunedì delle misure di mitigazione lo scenario di rischio torna basso e l'indice di contagiosità reti puntuale medio si ferma 0,82 diagnosi settimanali ridotte e una incidenza accumulativa a 90,81 casi nessuna allerta segnalata eh poi eh vaccinazioni studio alte boccia i ritardi della regione andiamo alla didattica la scuola integrata alle superiori riapre la scuola i ragazzi potranno scegliere di studiare in aula oppure studiare a casa dovrà comunque essere garantito il 50 per cento in classe e c'è l'attesa eh appunto dell'ordinanza del eh presidente facente funzione spirvi in eh in Calabria. Andiamo all'attualità Torino uccide la moglie e il figlio un articolo di cronaca e poi si lancia dal balcone che tornato in ospedale non accettava la separazione in un biglietto la lucida follia vi porto con me terzo caso di femminicidio in una settimana. Ancora il papa afflitto da sciatargia ospite eh il papa appunto ospite molesto udienza con la rota romana la sciatargia continua ad affliggere papa Francesco che il mattino l'udienza con i giudici della rota romana è stato costretto a rimanere tutto il tempo seduto dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po' molesto ha detto il papa. E poi i domiciliari concessa l'ex senatore Verdini per l'edizio Covid a Repivia e dopo quindi 85 giorni di carcere l'ex senatore Denis Verdini va ai domiciliari. E poi a Bolzano in cella il figlio della coppia scomparsa svolta nell'inchiesta su Giallo Bolzano Benno Neumar si è presentato in procura con i suoi eh regali. Eh andiamo agli altri approfondimenti invece economici il cattolico Portogallo legalizza l'eutanasia il quarto paese dell'Unione eh europea eh ora andremo anche a vedere l'economia intanto vediamo quest'altro articolo e la dura reazione della Chiesa una battuta d'arresco dice la Chiesa senza eh precedenti poi il terzo giorno in Polonia la Polonia che sfida il governo della consulta eh protesta insomma per l'aborto dicevamo prima invece le la faccina economica c'è l'intesa SNAM e CDP eh Cassa Depositi e Presti l'efficienza energetica nasce a Renovit e poi Aspi autostrade Unione europea scrive all'Italia le concessioni non le modifiche introdotte con i mille prologhi non convincono no Brusec da dieci settimane di tempo per fornire eh chiarimenti eh poi il vertice BNL Goettini nuova amministratore delegata Munari invece presidente sempre eh avanti andiamo Milano BPR svolta sulla governance il consiglio di amministrazione spazio a Unipol Fondazione Sardegna e ai fondi mentre Autogrill esteso il perimetro intesa eh Unicredit entrano nel consorzio di garantia salgono ora cinque soggetti impegnati nell'aumento di capitale e si allarga la base nell'accordo sull'acquisto di nuove azioni non sottosfrutte eh andiamo avanti Sanremo tante idee di festival eh ma si potrebbe qualcuno dice fare almeno almeno per un anno eh non muore nessuno se si sa che il presidente della commissione di vigilanza Rai che sia solidale e attento al momento difficile che viviamo Amadeus cita a rispondere a palazzo e a palazzo Chigi ancora avanti con lo sport Milan Inter il duello infinito in serie A le due battistrade in campo oggi quattro giorni dopo l'accesso eh l'accesso scusate derby eh appunto di Coppa Italia ed ora lasciamo anche lo sport torniamo alla Calabria mafia e politica principe nessun contatto con le coschea l'ex parlamentare nega in tribunale di avere mantenuto rapporti con arende con i eh esponenti della eh draghe tra il procuratore Bruni in calza in aula eh imputato eh eccellente il piglio è quello di sempre e la stoffa del leader Sandro Principe che riesce a mostrarla pure nell'aula in cui eh appunto si discute di ingerenze mafiose eh nel eh mondo appunto nel composito mondo politico eh amministrativo eh siede su uno scranno testimoniale nella veste diputato per affrontare le domande del eh procuratore per Paolo Bruni magistrato che l'ha mandato sotto processo per i presunti ed equivoci rapporti mantenuti con personaggi della criminalità organizzata principe non arretra e accetta la sfida domande e risposte si susseguono nella logica ferrea del dibattimento Bruni è un osso duro e principe risponderà la par suo tribunale presieduto da pingitore osserva e valuta ogni parola senza mai tradire quel principio di terza età caro alle dinamiche processuali qui vediamo l'ex parlamentare socialista Sandro Principe e poi il provvedimento della regione imprese turistiche tasse sospese per tutto il 2021 i benefici estesi anche alle esenzia di viaggio non le dice sarà il provvedimento poi l'inchiesta su Tucci che scuote il movimento delle cinque stelle il deputato si fa subito da parte il parlamentare indagato a vivo dei cinque stelle si autosospende e lascia il coordinamento calabrese eh morra dell'antimafia non vuole passi falsi in vista delle regionali da tale viva apertura a società e professionalisti in chiave elettorale quindi la vicenda giudiziaria non ha nulla a che fare con la politica né con il movimento dichiarano dai cinque eh stelle mentre il consigliere Pares lascia l'Udc e poi andiamo ancora all'avvocato Zanfino alla guida di Fincalabria subentra all'uscente eh Salvino. andiamo avanti andiamo anche alla come sempre in Calabria qui vediamo gli indagati che sfilano davanti al GIP eh Tararico sceglie di restare in eh silenzio l'ex consigliere Tommaso Brutto è stato il primo a essere sentito e sulla risposta il notaio Rocco Guillermo all'uscita del tribunale voto di scambio l'accusa dell'assessore regionale Franco Tararico lo vediamo in queste immagini l'ex assessore Saverio Bruno invece nella giunta del comune di Simeri spingono le pesanti accuse sia Tommaso eh Saverio Brutto in aula anche il notaio Rocco Guillermo e l'imprenditore Giglio le persone agli arresti domicilari sono state sportate in tribunale da DIA e dai eh Carabinieri poi a Vibbo pericoloso latitante catturato a Maida che era ricercato da un anno in bossa a capo dell'andrina di Maio Rato e eh Filovaso Domenico Cracolici ventotto anni si rifugiava in una casa cellulare che è stato catturato mentre dormiva ancora processo scotto rinascita anche per l'abbreviato c'è un'istanza di riusazioni con la produttore di giustizia Andrea Mantella offre il suo consenso a essere ascoltato come teste dell'accusa andiamo a Reggio di Calabria parliamo di sanità parliamo di ASP l'ASP il contenzioso fuori controllo c'è la relazione shock del ministero manca un registro dei procedimenti nel 95 per cento delle cause l'azienda è rimasta contumace la commissione straordinaria si è scontrata con un impenetrabile disordine amministrativo impossibile di costruire la situazione il recupero della legalità riguarda il larga parte l'avvocatura sì ma non riusciamo a capire come fa una commissione straordinaria dopo anni a non aver ancora neppure messo un inserito il registro insomma per i procedimenti migliaia quindi di contenziosi tantissimi dei quali nel corso degli anni sono rimasti sconosciuti all'azienda sanitaria provinciale tanto che come scrive la commissione straordinaria la guida dell'ente è risultata difficile persino alla stessa quantificare il debito esistente anche a causa di un contenzioso oramai incontrollabile tutto causato anche da una impenetrabile disordine amministrativo in questa immagine sotto i riflettori vediamo la sede l'ingresso della sede della direzione generale dell'ASP sanitaria in provincia di Reggio Calabria che è via Diana intanto saranno ci sarà così un po' una boccata di ossigeno all'ASP potrebbe dare il decreto Calabria bis saranno assunti intanto due legali e sei ragionieri ancora l'ultimo mese tra Reggio e Clotone della triade alla guida dell'ente fa parte anche la neo prefetto Ippolito nei primi giorni di marzo scadranno gli effetti dello scioglimento per mafia e naturalmente possiamo andare avanti andare alla discarica siamo in pareggio il contratto il contratto rescisso per in adempienza siamo alla discarica di Meri Cucca in adempienza delle imprese insomma il dirigente Pietro Foti che spiega le ragioni che hanno indotto la metrosita interrompere i lavori di Meri Cucca lo vediamo in questa immagine del settore ambiente e il dirigente metropolitano Pietro Foti e poi di Messina ed era in servizio ad Agusa comune ecco come la segretaria la segretaria Falcomatà sceglie Maria Riva vertice burocrata al competico ora manca lo staff eccoli qua Giuseppe Falcomatà la segretaria Maria Riva e il direttore Demetrio Bareca poi la presa di posizione da parte di Tildeminasi consigliera regionale salviniana inaccettabile traiette a pentimele presa di posizione della consigliere regionale Tildeminasi incomprensibile dal punto di vista dell'impatto ambientale ma anche turistico ancora assistente educativo a Reggio niente stipendi dall'inizio dell'anno scolastico nessun compenso è stato ancora pagato e c'è la denuncia siamo stanchi di questa situazione ci manca anche il TFR l'assessore del fino tranquillizza presto in liquidazione in mese di ottobre quindi siamo a gennaio e paghiamo ottobre c'è la lunga la fila burocratica delle rendicontrazioni che tenono stagio oltre 100 operatori del servizio sociale ancora è una sarco e stallo agenti senza sostegno la denuncia di Marciano è una conseguenza della decisione di rinviare le elezioni online mentre c'è la campagna di grande ospedale metropolitano domenica all'insegna del dono del sangue e a Reggio di Calabria si va anche verso il vertice il cambio del vertice di confindustria pizzichemi traghette gruppo dei giovani il passaggio dopo la nomina di Barreca un'industria calabria Giovanni pizzichemi vediamo in questo riguardo il presidente facente funzioni del gruppo poi ancora andiamo sempre su Reggio andiamo al parere del professore Stefano Palomba le donne in gravidanza vaccino in sicurezza ma non c'è nessun obbligo queste le indicazioni della unità operativa di sosteticia ginecologia di grande ospedale metropolitano poi bene di provenienza mafiosa l'indagine patrimoniale operazione mattone della procura antimafia della guardia di finanza indagine condotta dagli investigatori della guardia di finanza imprenditore contigo e clan sotto chiave bene per 2 milioni sequestrati quindi beni di domenico musolino e dei familiari un'impresa individuale 12 immobili rapporti finanziari e fonte societari tra gli indagati di camareonte chiara per gli inquirenti comunque la scopozione significativa tra il profilo reggituale e quello patrimoniale poi andiamo all'incidente mortale in via padova c'è condannato la vittima un giovane indiano che stava recandosi al supermercato disposta alla pena di 10 mesi e 20 giorni sospesa per 6 mesi la patente di guida poi chiesta più efficienza all'asp lo sportello del consumatore a tutti bisogna dare l'assistenza dovuta tirrenica ceni da villa vuole essere il comune di villa che vuole essere risarcito la differenza dell'anas appare difficile che l'amministrazione rinunci alla costituzione di parte civile palazzo san giovanni punta ai mancati introiti relativi ai 15 anni di concessione poi sempre a villa i diportisti chiedono un incontro con 20 ferroviari italiani i platani del lungomare i platani una variabile per i lavori le radici hanno sollevato la pavimentazione poi con insegna positiva due classi in quarantena la media di villa san giovanni tornando al vaccino scusate al coronavirus ci sono sempre come situazioni del coronavirus a Tizze e Casi, a Tarionova, Rizzigoni, dati in discesa si registra una crescita costante dei numeri dei soggetti negativizzati andiamo invece alle bollette idriche a bagnare il comune si spiega, si spiega, incontro con la selezione nella mia città con fronte aperto anche su riapertura delle scuole didattiche a distanza sempre sulla tirredica il sindaco di Polistena lascia dopo l'arresto del suocero nell'operazione Faust nella quale Policaro era indagato la sua ora si rimette le bagarre in aula non ho mai pagato le tasse a il longo l'opposizione chiede una commissione d'accesso il sindaco di Polistena Marco Policaro si è dimesso l'ha comunicato nel corso di un consiglio comunale aperto al pubblico la sua divisione è arrivata a distanza di alcuni giorni dall'operazione della DDA di Reggio denominata Fausto consiglio comunale l'ha seduta di ieri durante la quale quindi Policaro ha comunicato le sue dimissioni poi Ampi, Antirackers e Libera sono il primo cittadino la città davanti a uno sparsi acque confermata la costituzione di parte civile Fausto è in libera fortezza poi a Palmi nuovo ospedale sia della sovrintendenza ci sarebbe nulla osto dopo i lavori profedeutici all'apertura del cantiere a Prosalus si può chiudere la conferenza dei servizi e andare avanti con l'Iter poi a Palmi niente fondi delle ferrovie le taurenzi che è occasione persa che la rabbia del comitato del recupero e ripristino delle ferrovie la sua unità leggera renderebbe più capillare il trasporto pubblico locale poi ecco le giovani risorse di cittadinanza attiva nasce una nuova associazione a Tauria Nova andiamo postiamoci ancora andiamo a quest'altra notizia a Gioia Tauro popolai nelle scuole elementari e medie istituto comprensivo Pentimalli chiuse treplessi a causa dei contagi covid la perplessità dei genitori docenti in quarantena preventiva in classe a San Ferdinandio continua la rotazione Papa, Ratto, Vicesindaco mentre Ecologia Oggi i lavoratori in stato di agitazione a Gioia Tauro nei siti di Gioia e di Siderno i dipendenti della società non hanno ricevuto gli stipendi promessi come al solito e ancora Fausto morto in ospedale Vincenzo Pisano 61 anni mentre all'Arona di Borrello approvati gli studi di fattibilità mercato stadio Domenico Franzè e scuola di Bellantone nel triennale a Rosano buone spese a covid pubblicato l'avviso e passiamo dalla Tirrenica alla Ioni che abbiamo a morte tra Giovanni decadenza di Gattuso le spinta in seno al consiglio comunale mentre a Condofuri l'ultimo caso una cucciolata abbandonata al suo destino stiamo parlando di animali la cultura animalista assente il comune aspe ci ignorano Iaria Serac e così in tutti i paesi dell'Aionica qui vediamo la cucciolata il pericolo la cagna della sua tana ridosso della statale Iliana Iaria presidente della Serac poi sempre a Condofuri rilanciato dal comune un concorso per le scuole sulla tragedia della sua Lucera dice l'assessore educhiamo le future generazioni all'accettazione e al rispetto delle diversità la vediamo Carolina Valentina Lucera assessora all'istruzione in questa immagine a merito di Porto Salvo associata a quella di Roguri la segreteria approvato un protocollo con delibera consigliare quindi nei prossimi due anni i merito di Porto Salvo e di Roguri potranno avvalersi di un servizio di segreteria generale in forma associata a Montemello Ionico e Francesco Stilitano il rimpasto è servito anche il vice e donna quindi Francesco Stilitano entra in giunta anzi la vice sindaco nella giunta Foti entrano anche Giuseppe Principato e Vincenzo Monterosso le vediamo in questa immagine Papparizzi via al triennale delle opere pubbliche dalla commissione straordinaria con i poteri dell'esecutivo al comune un contributo straordinario del criminale di oltre 500.000 euro sempre sulla Ionica a San Luca invece San Luca piange un'altra vittima a San Luca ci sono molti contagiati i contagi non diminuiscono nel paese della zona rossa fino a stasera il sindaco chiede la collaborazione dei medici di base per censire i sintomatici si sospetta che ancora troppi positivi vanno in giro come se nulla fosse e la curva del virus non accenna scendere da giorni e oscilla tra 150 e 160 persone infettate poi truffa all'impres seppone la rocride una nuova indagine della procura su un filone di reati molto diffuso in questo comprensorio 13 avvisi di garanzia per contributi agricoli non dovuti per capitati a falsi braccianti che avrebbero incassato le somme l'inchiesta seguita dalla procura di loqui è fondata sul materiale informatico finito tutto sotto sequestro in questa immagine vediamo la sede regina palazzo dell'istituto di previdenza sociale in via Romeo ancora bovalino benestare la festa di Don Bosco un'occasione per dare un sorriso ai ragazzi mentre a Gerace e Marino 87 anni fa diventò Locri il primo cittadino ha pensato di ricordare il compleanno della città il decreto firmato da Mussolini il primo sindaco è stato Adolfo Domizio quindi la città di Locri è tale da 87 anni cioè dal 29 gennaio 1934 Padardore dipendente positiva scuola chiusa rimane stabile a 42 il numero dei contagiati si cercano ora i contatti della donna una collaboratrice della segreteria scolatti che l'amministrazione comunale ha immediatamente avviato la procedura di sanificazione dei locali ancora sulla Ionica siamo a Siderno elezioni incertenza su tutto tranne che sui grandi numeri difficile che le amministrative si svolgano entro marzo non è certo neppure che siano accolpate alle regionali di aprile ammesso sempre che ad aprile si facciano le regionali a Gioioso Ionica l'unno contagiato a scuola chiusa ed ancora qui siamo a Siderno nero su bianco con delibera del progetto della regione c'è un soccono dei commissari all'ampliamento della discarica di San Leo l'ambientalista comprese le stanze dei residenze e qui vediamo i commissari prefettizi di Siderno e poi sempre Siderno sulla casa della salute vertice dell'ASP sono sordi alle stanze dei cittadini domani ci sarà al nuovo sit-in annunciata la presenza di Tanze e anche dei magistri si infonda la pagina a mattina di Gioiosa le voci dei ragazzi sulla Shoah un corto messaggio per la giornata della memoria è stato realizzato dagli alunni dell'istituto comprensivo con illustri collaboratori i lavori sono basati sui racconti di anziani che hanno vissuto in prima persona la tragedia dell'Olocausto postiamoci a stilo cinghiali la caccia finisce oggi ma i capi sono ancora troppi sulla vallata dello Stilaro si preparava in una si sperava in una proroga appunto di questa chiusura della caccia bene andiamo ad altri giornali andiamo al giornale punto it i giudici e le state delle trame così hanno abbattuto Salvini un ministro di destra l'immigrato maltrattato la sinistra che cerca la rivincita la magistratura scende in campo e qui vediamo appunto Matteo Salvini i 5 stelle poi che riaprono a Renzi rabbia di Di Battista arrivederci Mattarella affida figo in mandato esplorativo poi la bomba di Battista squaccia il movimento 5 stelle ecco come può saltare tutto mentre un euro per ogni italiano Conte cerca soldi per il voto la Meloni con le stampelle ieri al Colle così con una battuta detta la rappresentazione perfetta del governo Conte Ter e poi Banchi Italia contro Dini scontro sulla sua casa poi Conte le colpe di Casarino ecco perché tutti lo odiano mentre i colori delle regioni cambiano l'ombra diventa gialla smentite o dimettetevi 27 toghe chiedono la testa dei vertici della giustizia mentre ora fatemi raccontare il sistema delle toghe parla palamar e parla dei segreti della magistratura quindi magistratura come la chiama Santonetti deviata poi gli agenti ammazzati a Trieste rischiano di non avere giustizia mentre i tunisini accercano gli agenti e c'è la furia con pugni e bottiglia voi vi ricordate la storia della citofonata di Salvini a presunto spacciatore citofono la nostra divincita e lacrime chi chiamò Salvini il coraggio della donna anti spacciatori poi perché Franzone innocente tutti i dubbi sul caso del delitto di Cogne la verità di Teormina sulla madre dei delitti ancora Gigino che vuole fare l'americano una sponda con con Biden mentre c'è avvertimento finale della Cina questo significherebbe la guerra chiudiamo con Dago Spia Obtorto Colle vediamo il presidente della Repubblica Mattarella che tiene come fosse un pupazzetto insomma il premier conte il compito di Fico esplorare l'ipotesi di un conte terre esminare il terreno dei veti incrociati tra Ronda Grillina e Renzi ma lo scenario è veramente incerto il Movimento 5 Stelle è già spaccato e Renzi non potrà continuare comunque a rilanciare all'infinito se non si sbroglia la matassa entro martedì in assenza di numeri certi il capo dello Stato non potrà che riprendere in mano la crisi e dirottarla verso un governo istituzionale molto probabilmente quello che accadrà martedì poi il corona non perdona i morti provocati dal covid nel mondo hanno superato la soglia dei 2,2 milioni secondo il conteggio della university ed oggi sono morte 2.206 459 persone di cui 87.000 in Italia il bilancio aveva superato quota 2 milioni appena 15 giorni qua ora siamo a 2 e 200 poi ha pianto tanto ho pianto tanto stavo cadendo in depressione neanche a verissimo racconta a novembre mi sono tagliato la mano con una sega circolare l'anulare è quasi saltato via il dito medio per metà se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa di campagna nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato nel miglior avrei perso i sensi invece ho avuto il coraggio dice di correre ancora qui vediamo invece sempre sulla crisi di governo Mattarella che chiede a Roberto Ficco una maggioranza solida compresa Italia Viva e se è possibile allargare l'area di governo ad altri partiti ma la dichiarazione di crimi a favore di un confronto con l'attuale maggioranza spacca le varie tribù del movimento 5 stelle se Fico verifica che c'è una dispersione di voti dei 5 stelle lo stila Renzi allora si prova ad imbarcare Forza Italia per formare la cosiddetta maggioranza ultula e per Giuseppe Giuseppe Conte è game over dato che Berlusconi ha già fatto sapere che per discontinuità politica Forza Italia non vuole l'avvocato di Casarino e Travaglio a questo punto potrebbe appunto materializzarsi un governo del presidente con pleme Marta Cartaria ma si profila anche il ciuffo del presidente del Parlamento europeo Sassoli artefice della mediazione che portò il Movimento 5 stelle a votare per Ursula nel Europa qui vediamo l'agenzia flash Roberto Fico potrebbe anche essere un prossimo presidente del consiglio potrebbe ricomporre l'unità del Movimento 5 stelle e lasciare la presidenza della Camera al Partito Democratico questa è un'altra delle possibilità che ci sono bene a questo punto con questo articolo noi possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi sabato 30 di gennaio 2021 vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento domani per la consueta rassegna stampa augurandovi un buon fine settimana arrivederci buona giornata a 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 Grazie per la visione!